La giustizia ambientale è stata una priorità per il mio gruppo parlamentare, in particolare ci siamo schierati contro le grandi opere come la TAV e la TAP, ci siamo schierati a favore della giustizia ambientale contestando il sistema di commercio delle missioni che purtroppo rischia di far sì che l'Europa sfori rispetto agli accordi di Parigi. Noi ci presentiamo con una proposta alternativa sia quella dei nazionalisti che appunto rischiano di riportare l'Europa ai muri e alle frontiere ai fili spinati, ma anche con una proposta alternativa a chi ha voluto questa Unione Europea così com'è, un'Unione Europea delle disuguaglianze e dell'aumento della povertà. Questi partiti sono il Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista Europeo, ovvero Forza Italia e il Partito Democratico che hanno imposto l'Europa dell'austerità e oggi dicono di voler cambiare l'Europa. L'unici che hanno la credibilità per dire di voler cambiare l'Europa siamo noi. Quanto è importante andare a votare per queste elezioni europee? Spesso l'Europa viene vista, almeno qui in Italia, come un'entità lontana, invece forse non è così. Beh, sicuramente è molto importante andare a votare perché dal prossimo Parlamento Europeo passeranno decisioni importanti, una su tutte, quelle di non far diventare il Fiscal Compact un trattato costituente dell'Unione Europea.